Io resto con te. È il crocifisso che ce lo dice. Il famoso crocifisso che salvò dalle eruzioni del Vesuvio tanta gente secoli fa, ma che adesso in questa quaresima così difficile e controversa vuole condividere con noi la sofferenza, vuole crocifiggersi ancora, fare quaresima anche lui con noi. Per darci però la fiducia e la speranza risusciteremo, supereremo questo momento. Io resto con te. Il crocifisso resta con noi. Noi restiamo con lui. Restiamo con Gesù crocifisso e preghiamolo di allontanare il coronavirus dall'umanità. Signore Gesù, per noi crocifisso e risorto, donaci di essere i tuoi fedeli discepoli, capaci di seguirti nella via della croce e dell'amore. Rendici attenti alle necessità dei fratelli, perché in ogni situazione possiamo sempre portare i segni della speranza, della vita e della pace. Amen. A questo punto chiediamo a Gesù la grazia di allontanare il coronavirus dall'umanità intera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi.